La macchina della cultura si è rimessa in moto e si appresta all'estate più difficile di sempre. Con l'ordinanza che ha dato il via libera anche a cinema, teatri e spettacoli all'aperto, si è chiuso il cerchio sulla graduale riapertura dei luoghi della cultura fiorentina. Il settore si aggrappa ai turisti italiani per salvare il salvabile, ma sono in molti quelli che hanno deciso di rimandare tutto al 2021. Alcuni invece dovranno rimanere chiusi perché spesso le sanificazioni, il rispetto dei protocolli richiede una spesa piuttosto ingente, piuttosto importante. Alcuni direttori di sale hanno scelto di tenere in via prudenziale e nel contenimento anche delle spese chiusa l'esercizio per i mesi estivi che sono anche storicamente poi mesi più caldi e dove è meno presente la programmazione. Niente in confronto ai numeri pre-covid, ma da Palazzo Vecchio arrivano segnali incoraggianti. Firenze sta tornando verso una sua graduale normalità. Museo di Palazzo Vecchio, Museo 900 e Museo Bardini stanno dando risultati molto buoni in termini di pubblico, di affluenza e di rispetto delle regole. Di questo ci rallegriamo molto.